Cabina di regia, Rosselli prova a contenere la rapidità di tempo e ce la fa, pallone recuperato da Bowers, ottima difesa di Rosselli che ha avuto un buon impatto sulla partita. Su due, parità 56 a 56, 54 secondi al termine del terzo quarto, mano a palla in mano con Bowers, cambia lato, Rosselli, cambio di mano, la penetrazione e l'appoggio, stilisticamente perfetto. Grande, grande Rosselli, l'errore, gentile, 5 lunghezze da recuperare per Casale, Rosselli, il contropiede di Guido Rosselli e Canestro, il numero 16 all'ongranata, esplode il paraverne. Perferenza con i nostri lunghi, atipici, spalle e canestro sono stati bravi a far taglia fuori offensivo. Young, lo scarico per Meini, un altro passaggio per Rosselli dai 6,75, il tiro è corto, ma va a prendersi il canale, il rimbotto a segnare ancora una volta tutta l'intelligenza di Rosselli, un giocatore nato, un ragazzo nato per giocare a pallacare. Meraviglioso. Pur, Jenning, Namaka e probabilmente Chiotti, sì, in questo finale di partita.